Per eminenza, nella Tendopoli ci sono alcuni ragazzi anche dal Venezuela dove portano avanti lo spirito della manifestazione di San Gabriele. Lei è stato un nunzi apostolico in Venezuela e conosce da vicino quella realtà oggi in grave crisi economica e umanitaria. Qual è la situazione del dopo Chavez e qual è la situazione dei cattolici in Venezuela? È una situazione di grave preoccupazione, di grave preoccupazione per lo scontro politico che è in atto e per le sofferenze in cui si trova a vivere la popolazione. Quindi i cattolici sono lì, sono la maggioranza. Credo che continuano a fare tutto il possibile appunto perché questa situazione soprattutto da parte dei Vescovi ma anche di altri membri della comunità cattolica possa trovare delle soluzioni pacifiche. Pregherò, chiederò di pregare anche durante la messa per il Venezuela visto che ci sono anche alcuni ragazzi. La tendopoli è dedicata alla misericordia che si è fatta tenda nell'anno del Giubileo straordinario. Che significato assume la tendopoli? C'è un pellegrinaggio materiale ma c'è anche un pellegrinaggio spirituale e questo pellegrinaggio spirituale evidentemente deve caratterizzare tutti i cristiani. I cristiani sono in cammino verso la patria definitiva che è la comunione con Dio. E in questo cammino ecco la misericordia ha un ruolo fondamentale perché come ci ha detto il Papa la misericordia è il nome di Dio. Qualche giorno fa il Papa ha celebrato la giornata mondiale della gioventù in Polonia. Qual è il messaggio che la Chiesa rivolge ai giovani e che emerge anche da questa 36esima tendopoli? Il messaggio che il Papa ha lasciato è stato molto chiaro. Dice non sedetevi, lo ricorderò anche nell'Omelia, non sedetevi in un divano, non credete che la felicità sia un divano. Lo stare tranquilli nella vita senza problemi, senza difficoltà. Mettetevi in cammino alla voce del Maestro e cercate di lasciare un'impronta di bene in questo nostro mondo.